ciao a tutti voglio fare questa premessa per ringraziarvi per tutto il vostro supporto sono contentissima perché abbiamo superato la soglia dei 300 iscritti io non so che non ho parole veramente perché due settimane fa eravamo a 200 iscritti e già abbiamo superato i 300 continuiamo così che devo dirvi io non so che cosa cosa dirvi perché sono senza parole scusate se sto registrando solo l'audio ma per l'appunto il telefono in carica e anche la telecamera che usavo prima per registrare video scarica quindi non mi resta altro che registrare l'audio basta niente io vi ringrazio cantandovi questa canzone a mio parere meravigliosa ve la canto dal vivo a cappella ed è in mezzo a questo inverno di tiziano ferro buon ascolto e grazie veramente grazie oggi si parla di te in tutto il mondo e la gente ne sorride a festa oggi si parla soltanto di te nella mia testa minimizzo tanto non mi senti sempre secondo il primo dei perdenti ho perso idee fantasia autocontrollo anche il tuo ultimo boh c'eri tu c'eri tu c'eri tu c'eri tu in mezzo a questo inverno a dirmi meglio un minuto ma felice che triste in eterno però per ora per caso sfortuna adesso troppa paura sei sempre stata più forte tu mi chiedo come potrei esserlo io di più la vita segue auguri a chi combatte io ora vado una volta per tutte solo un giorno vivi tu per me per oggi perché io non torno dicevi da grande lo stesso problema ti sembrerà tanto ridicolo ma il giorno in cui sei volata via c'eri tu c'eri tu c'eri tu c'eri tu in mezzo a questo inverno a dirmi meglio un minuto ma felice che triste in eterno però per ora per caso sfortuna adesso troppa paura sei sempre stata più forte tu mi chiedo come potrei esserlo io di più di più di più rivolgo la felicità ridere forte all'improvviso e non la voglio questa libertà e non sia fatta la tua volontà c'eri tu c'eri tu c'eri tu c'eri tu in mezzo a questo inverno a dirmi meglio un minuto ma di pace che guerra in eterno però per ora per caso sfortuna adesso troppa paura sei sempre stata più forte tu probabilmente dovrò esserlo io di più 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 Grazie per l'ascolto, al prossimo video.